In questo momento stiamo volando a 9000 metri, sotto di voi uno stupendo mare azzurro, alla vostra destra il Golfo di Napoli. Vi ricordiamo che questo è un volo di linea italiana, quindi è vietato fumare. Grazie ancora per averci scelto e buon viaggio. Bling long! Io si ascolto il microfono e petto. A quale un bugnizzo avuto vuol dire che caggianarono in sé aereo, in sé aereo, in sé aereo avevano quattro valigie perché stavano fitello, ma è qui, un bugno di sambirre e bezzocchi di chi... Headlocker or under the seat in front of you, and it looks not wrong. Come the world seem to shine like you've had too much wine... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.